Ciao a tutti carissimi amici e ben ritrovati sul canale youtube dell'Ace Maked Ivory Nel video di oggi andremo a analizzare questo punto che è molto carino ed è estremamente facile da eseguire Innanzitutto vi volevo far vedere appunto come risulta la fine che abbiamo analizzato nel video precedente e queste sono le paia che sono sospese Per quanto riguarda invece il nuovo, la parte diciamo che ho eseguito in questo punto ho iniziato mettendo le paia come vi avevo spiegato qua quindi nel primissimo video che ho caricato in merito a questo merletto quindi l'unica differenza è che ho appeso due coppie qua per creare questa barretta A3 e quindi ho aggiunto due paia, due paia e due paia sempre agganciandomi al piede e eseguendo le barrette di conseguenza come una cordetta l'inizio è speculare a quello già eseguito in precedenza la lavorazione che vi propongo oggi è questa qua ed è molto semplice si ottiene praticamente un quadratino vuoto con dentro praticamente la rete quindi la rete con il buchino secondo me è molto bella, è molto elegante ed è davvero semplicissima l'unica accortezza è quella di tenere sempre ovviamente lo spillino che tiene la rete nella tela in modo da essere sicuri che rimanga lì ferma dunque io ho deciso di fare, praticamente di distanziare questa lavorazione contando quattro spilli, quindi conto sempre uno, due, tre, quattro faccio la lavorazione e poi uno, due, tre e quattro e ricomincio a fare la nuova lavorazione quindi lavoro cinque paia sulla sesta coppia che corrisponde a quella centrale eseguo questo tipo di lavorazione quindi come per la rete che avrete già visto nel video dedicato a come eseguire perfettamente la rete classica di Cantù la rete classica con il buchino si esegue in questo modo attorcigliamo due volte sia la coppia verticale sia il portante eseguiamo un mezzo punto quindi incrociamo i saldi centrali prendiamo uno spillino lo andiamo a posizionare in mezzo a queste due coppie in questo modo proprio come se stessi facendo la rete cerchiamo ovviamente di posizionare lo spillo in mezzo alla tela per fare in modo da convergere tutta la lavorazione sempre al centro dopodiché attorciglio due volte entrambe le coppie ed eseguo un mezzo punto quindi incrocio i fili centrali in questo modo abbiamo completato diciamo il punto della rete quindi la coppia che ho nella mano destra l'abbandono che è quella che poi scenderà come verticale l'altra è il mio portante quindi attorciglio due volte e poi continuo a lavorare lavoro appunto a tela tutte le paia che sono ovviamente cinque coppie perché la testa è quella che abbiamo lavorato in centro eseguo il mio piede ritorno indietro lavorando sempre ovviamente appunto tela a questo punto che sono arrivato dove alla coppia che ha lavorato diciamo questo motivo la torciglio due volte questo perché ovviamente il punto deve crearsi sia sopra che sotto come esattamente questo lavoriamo appunto a tela tutte le coppie cerchiamo di tendere bene la lavorazione e i fuselli perché ovviamente questa lavorazione crea uno spazio nella tela e quindi dobbiamo cercare di tirare bene le paia in modo da uniformare la lavorazione questo si fa soprattutto nei successivi giri infatti non ci preoccupiamo molto se adesso vediamo uno spazio molto grande perché lavorando appunto a tela i giri andiamo a riassestare la lavorazione e quindi tiro bene le paia e faccio in modo di coprire ovviamente lo spazio che ha determinato questo punto è Ritorniamo indietro. Lavoriamo come di consueto le paia che abbiamo e tiriamo, come vedete, sto tirando bene le paia verticali in modo così da far convergere le coppie e sistemare bene la lavorazione. Anche qui faccio il mio del piede. Come potete vedere qua abbiamo già recuperato e adesso man mano che si esegue il punto tela si chiude, si chiudono gli eventuali spazi che si possono creare. Adesso qui devo fare la barretta. Continuo nella mia lavorazione tirando sempre bene le paia. E come possiamo vedere questo punto che secondo me è molto bello, molto carino ed anche molto elegante ed è anche molto veloce da fare perché si fa proprio in un paio di passaggi l'abbiamo completato. Andiamo. 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 Grazie a tutti. Ebbene il punto è completato, come potete vedere la tela si è riassestata, il punto l'abbiamo completato e ora procedo a fare un altro giro a punto tela e poi sono pronto per poter ricominciare come mostrato in precedenza. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia interessato e vi abbia fatto imparare qualcosa di nuovo. A presto sul canale YouTube dell'Ease Maker Diary.